Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo e Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Quando Cristo, che è la tua vita, è rivela, allora anche voi rivela con Lui in gloria. Grazie a tutti. 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 . . . . Grazie a tutti. . . Grazie a tutti. . . . . . . . . .